Secondo uno studio della NASA, alcune piante da interno sarebbero ottime per contrastare il problema dell'inquinamento domestico. Sono perfette insomma per filtrare l'aria, per purificarla. Io stesso in uno dei miei video ho citato questo famosissimo studio. Il fatto è che poi sono andato un po' più a fondo e ho scoperto delle cose davvero interessanti. Diciamo che mi sono fatto delle domande e non è che forse la NASA ci abbia mentito? E se in questo video From Ruth to Leaves stesse proprio per sfatare questo mito? Se siete curiosi di scoprirlo non vi resta che iscrivervi a questo canale, lasciare un commento, un like, cliccare sulla campanella. Non è vero, in realtà per scoprirlo vi basta arrivare alla fine di questo video, però se volete fare anche quelle cose per me va benissimo, mi fareste veramente piacere. Mi fareste veramente piacere. Vogliamo parlare di come i miei video stiano diventando sempre più simili a delle puntate di Mela Verde? Vabbè, comunque sapete perché io sono venuto all'interno di questo vivai oggi? In realtà per farvi una domanda molto ma molto precisa, ovvero vi è mai capitato di entrare in un luogo come questo o anche semplicemente in un supermercato ed imbattervi in piante sul cui cartellino viene scritto questa pianta purifica gli interni, respira meglio con questa pianta. Molto probabilmente vi è capitato, anche perché parliamo di piante che negli ultimi anni sono state un vero e proprio trend, hanno avuto un boom di vendite e come dare torto a chi le acquista? Sono piante facili da gestire, sempre verdi, con poche esigenze ecologiche e in più purificano l'aria degli interni. Almeno questo è quello che vi dicono etichette come questa, è quello che vi dicono i vivaisti, è quello che vi dice anche la NASA. Ma questa cosa sarà vera? Allora per rispondere facciamo un attimo un passo indietro e partiamo dal problema, cioè cerchiamo di capire perché dovremo purificare l'aria degli interni. Sì, lo so, ho già parlato di questa cosa in modo molto breve all'interno di uno dei miei video, che trovate in descrizione. Il fatto è che comunque vorrei ripetere un paio di concetti e approfondire un attimino la questione. Perché dobbiamo purificare l'aria degli interni? Ma il problema sono sempre loro, i composti volatili organici, i vi o sì. Nell'ultimo video che ho fatto, quello del benessere nel bosco, vi ho parlato di alcuni di questi composti che sono, parrebbe essere molto benefici per la nostra salute. Il fatto è che noi, nelle nostre abitazioni, negli uffici, passiamo un sacco di tempo invece a contatto con alcuni composti volatili organici che sarebbero tutto fuorché benigni. Formaldeide, tuolene, benzene, sono soltanto alcuni di questi compagni imprescindibili all'interno degli edifici. E nel momento in cui noi comunque passiamo all'incirca 90% del nostro tempo negli edifici, è chiaro che siamo a stretto contatto con queste sostanze, che veramente escono fuori dalle plastiche, dalle colle, dalle vernici e via dicendo. E quando ci sono alte concentrazioni di queste sostanze e noi siamo a contatto con loro in tempo per tempi prolungati, ecco che possono subentrare degli stati di malessere. Uno dei più famosi è la Sick Building Syndrome, ovvero la sindrome dell'edificio malato, che se ci pensiamo è un nome un po' buffo, perché è l'edificio ad essere malato, ma i sintomi li sentiamo noi, ovvero mal di testa, senso di nausea, la percezione che manchi l'aria, e questi stati possono nel tempo anche peggiorare in malattie molto più serie. Ora, calcolate che il Ministero della Salute all'interno del sito suo ha una sezione interamente dedicata all'inquinamento indoor e anche alla Sick Building Syndrome, quindi parliamo di un problema comunque piuttosto serio e frequente, che noi potremmo tranquillamente risolvere, ad esempio eliminando l'utilizzo di formaldeide, oppure di benzene e via dicendo. Però mi rendo conto che non sia una cosa così facile. E allora cosa abbiamo scoperto nel tempo? Che le piante sono delle ottime alleate per combattere questo tipo di sostanze. Ma in che modo? Beh, andiamo in serra a vedere come le piante possono contrastare l'inquinamento. In effetti il modo in cui piante come il ficus, lo spatifillum, la diefembacchia, o anche la più famosa sanseveria, la lingua di suocera, sono in grado di bloccare queste sostanze, è molto semplice, attraverso la fotosintesi principalmente. E quindi poi queste sostanze dove vengono bloccate? Vengono bloccate o all'interno della componente vegetale della pianta, o addirittura all'interno del terreno. E questo avviene grazie all'incredibile lavoro della rizosfera, ovvero quel microcosmo che si genera a livello delle radici, che noi non riusciamo a vedere perché è veramente piccolissimo, fatto di particelle di suolo, fatto di funghi, di batteri simbionti, delle radici stesse che collaborano tutti quanti armoniosamente per riuscire a bloccare queste sostanze all'interno del terreno. Ecco, tutto questo è vero? Assolutamente sì. Quello che afferma la NASA e tutti quanti gli studi che sono seguiti sono cose vere, cioè queste piante hanno l'attitudine a fare questo tipo di lavoro e di bloccare i composti volatili organici. Il vero problema è che sembrerebbe non lo facciano in modo sufficiente, soprattutto nelle situazioni in cui le concentrazioni di VOC sono effettivamente troppo elevate. E questo è un po' un problema perché ci sono degli studi che hanno ribaltato completamente l'idea che le piante possano effettivamente essere utili in questo senso. Maledetto doratini, quanti pacchetti per trovarlo! Oh, eh? Tocca a te! Ah, sì, si diceva che alcuni studi hanno effettivamente contrastato, confutato quello che sosteneva la NASA, ma non tanto perché dicono che le piante non sono in grado di assorbire sostanze volatili organiche. Quelle sono assolutamente d'accordo, lo sanno fare e non ci sono dubbi. Il vero problema è che non lo fanno abbastanza. Uno degli studi più interessanti, che vi metto chiaramente in descrizione, è uno studio del 2019. Cosa hanno fatto? Hanno preso 12 studi, nei quali si misurava ovviamente la quantità di sostanze volatili organiche che venivano prese, messe nelle piante, eccetera, eccetera, e di questi studi hanno estrapolato all'incirca 200 misurazioni totali. Tutte queste misurazioni le hanno trasformate a un unico parametro, di modo da poterle confrontare fra di loro e di capire quale potesse essere effettivamente l'efficienza di purificazione dell'aria da parte delle piante. Il parametro con cui queste piante sono state valutate si chiama CADR. Ma quanto c***o sono british, b***h. E non avete ancora sentito niente? Pronti? Clean Air Delivery Rate, cioè il tasso di consegna di aria pulita. Che cosa significa? È semplicemente un modo per valutare l'efficienza di un filtratore. Infatti questo parametro è stato inventato proprio per confrontare fra loro diversi filtratori e chiaramente come si misura in metri cubi all'ora e più è alto il valore, più sarà efficiente il filtratore e più sarà veloce questo filtratore. Bene, prendendo tutti quanti questi studi, questi valori da studi pregressi appunto, hanno trasformato e hanno scoperto che mediamente una pianta in vaso ha un CADR di circa 0.1 metri cubi all'ora. In realtà addirittura inferiore a questo valore. Ora, pensate per un attimo al fatto che esistano in commercio dei filtratori che arrivano anche a 100 metri cubi all'ora. Capite che meno di 0.1 e 100 non c'è proprio paragone. Ora, a seconda di quanto grande può essere una stanza, la stima è stata fatta che servirebbero dalle 10 alle 1000 piante per metro quadro per riuscire ad ottenere lo stesso risultato che si ottiene con un filtratore o aprendo la finestra. Questo studio ovviamente invita a continuare la ricerca su quest'ottica e soprattutto invita a fare simulazioni quanto più simili alla realtà. Però sono comunque abbastanza scettici riguardo il fatto che le piante possano riscoprirsi effettivamente ottime filtratrici. Non disperiamo però, perché le piante in un certo modo le possiamo comunque sfruttare per pulire l'ambiente, per pulire gli ambienti interni in questo caso, ovvero attraverso i bio wall. Sono fondamentalmente un mix, una crasi, tra una parete verde e un po' di tecnologia, nella quale praticamente andando ad aumentare il flusso di aria a livello radicale si va a sfruttare proprio la capacità della rizosfera di cui vi dicevo prima e andando a creare veramente dei sistemi di filtraggio molto efficienti che arrivano questi sì fino anche a 100 metri cubi di aria purificata all'ora. La morale di tutta questa storia qual è? Beh, sicuramente che bisogna come tutte quante le cose in ambito scientifico continuare a fare ricerche, a scoprire sempre più cose, ma soprattutto attenzione, quando compriamo un prodotto, sia esso una pianta con scritto purifica l'aria, sia esso un cereale con scritto biologico, è sempre opportuno e interessante farsi delle domande e cercare di andare a fondo. Io stesso leggendo l'articolo della NASA avevo detto vabbè, lo dice la NASA, ci crediamo. Però in effetti mettere in dubbio anche questi capisaldi è una cosa molto importante ed è la chiave del progresso scientifico. Eccoci giunti alla conclusione di questo meraviglioso contenuto multimediale di From Roots to Leaves. Per salutarvi io vi voglio dare un mio personalissimo consiglio, ovvero non rinunciate a riempirvi la casa di piante. Lo devo dire perché sennò mi cazzano dal vivaio. No scherzo, in realtà è perché ci credo davvero. Nel senso che se anche alcuni studi stanno dimostrando che le piante potrebbero non essere così efficaci a purificare l'aria, a noi cosa ce ne frega? Cioè, quanti di noi acquistano piante con lo scopo di purificare gli interni? E quanti invece lo fanno? Perché le piante di fatto sono belle, perché rendono più piacevole, più vivibile in un ambiente. Ed è questo che bisogna continuare a fare, anche perché gli studi che invece dimostrano il contrario, che le piante sono molto utili perché migliorano l'umore, sono veramente tantissimi. ma capite da voi che questa è un'altra storia ed è perfetta, perfetta per un altro video.